Siamo a Portici Bellavista da CED, la minestra maritata che proporrai oggi. Buongiorno a tutti, proponiamo una minestra maritata un po' rivisitata con delle verdure, con della carne di vaccino, maiale e manzo e lo serviamo con un brodo di bollo chiarificato e con della fresella di acerola e con del parmigiano e pecorino e dell'olio piccante. Perché parli di rivisitazione della minestra maritata? Perché la facciamo un po' più alleggerita con delle cotture delle verdure tutte separate e poi le raffreddiamo in acqua di ghiaccio e gli diamo una cottura talmente breve e lo serviamo con un brodo di bollo chiarificato e lo condiamo con olio extravergine.